Signori lo so che ve lo state chiedendo, ma che minchia è sta roba? Beh sta roba signori mei è un pulitore interdentale per denti a propulsione getto super china è dotato di un serbatoio molto capiente, un connettore per ricaricarlo, tre led per le modalità, il tasto modalità e il tasto on off Ah e poi potete staccare quella specie di beccuccio per una propulsione molto più potente In confezione ecco qui i beccucci di cui parlavo prima Uno è ovviamente per persone normali e l'altro è per gente con problemi Abbiamo poi il pezzo principale a cui va attaccato il nostro beccuccio e incastrato così Dopodiché lo giriamo dove cavolo ci pare, dove ci fa comodo In realtà questa forma è talmente scomoda che non ho trovato una posizione ideale E poi ho provato... adesso smontiamo... va bene Certo staccarlo ogni volta è molto scomodo A questo punto conviene metterlo qui e come vedete c'è una specie di tappino ermetico Con la sua guarnizione che potete ricaricare rigorosamente fuori fuoco A questo punto non ci resta che selezionare una modalità Partiamo dalla soft Per poi passare alla pulse E infine la normal Beh direi un prodotto dalla qualità assolutamente inecepi... Ma veniamo ora ai lati negativi Guardate se la nostra bocciozza è quasi vuota Noi incliniamo per pulirci i denti e... La domanda che sorge dunque è Può questo sostituire il filo interdentale? Ovviamente no! Difficile trovare un modo più creativo per buttare 30 euro Diciamo che se vi passate questo e pensate che siete messi a posto Poi passatevi pure il filo interdentale Perché è sicuro che lo sporco verrà fuori unicamente con quello Essendo che questo non fa un cazzo Grazie a tutti